Ben trovati, allora da dove cominciamo? Dal mercato o dalla situazione infermeria? Notizie positive e meno, insomma andiamo con ordine, cominciamo dal mercato, da quelle che sono le ultime notizie come avevamo anticipato è Giroud, la prima scelta di Conte, l'Inter sta cercando di accontentarlo scusate il gioco di parole, dandogli l'attaccante che conosce molto bene, che già al Chelsea aveva sostituito Dzeko quando rifiutò il trasferimento a Londra, lui il giocatore che Conte vuole per rinforzare l'attacco per avere un vice Lukaku ma anche un altro giocatore da poter schierare insieme a Lukaku in un attacco molto fisico per far rifiattare Lautaro in qualche partita aspettando rientri di Sanchez e anche di Politano, anche se per Politano come vi dicevo si sta provando a imbastire qualche scambio, lo stesso giocatore vuole avere più spazio vuole conquistarsi gli europei, quindi anche qui questione da vedere però a conferma di quello che vi dicevo si sta trattando con Giroud per l'ingaggio il giocatore vorrebbe un anno in più di contratto rispetto ai 18 mesi che offre l'Inter ma con un anno di opzione, se le cose dovessero andare bene in questi sei mesi e nei prossimi si dovrebbe trovare la soluzione, l'accordo tra le due parti e poi passare a chiedere e vedere al Chelsea se lascerà il giocatore andar via visto che ha solo sei mesi di contratto, avrebbe da gennaio a giugno e desidera conquistarsi il posto per gli europei come gli ha suggerito Deschamps desidera giocare con un po' più di tranquillità, con un po' più di anche spazio visto che non ne ha più trovato a Londra dove è diventata la terza scelta dietro ad Abram e Bacuai insomma tutto da vedere e anche però come avevamo detto molto dipenderà da come andrà la campagna europea dell'Inter se l'Inter riuscirà a far l'impresa in Champions a vincere il mercoledì prossimo a Praga e poi in casa con il Barcellone a qualificarsi per gli ottavi di finale o poi vedremo cosa succederà se andranno in Europa League che comunque servirà un rinforzo importante se no tutto nelle mani di Marotta Ausilio e naturalmente seguendo le indicazioni di Antonio Conte poi si lavora per Depol per il centrocampo e anche per Kulusevski però qui forse ci sono un po' più di difficoltà non si forse non si riuscirà a imbastire l'affare per gennaio insomma si sta trattando sono queste diciamo le settimane più importanti in vista poi della riapertura del mercato che ricordiamo ci sarà il 2 di gennaio un Inter che vuole ad Araconte un'altra prova di fiducia rinforzando la squadra in attesa del ritorno anche di Sanchez dello stesso Politano però e qui ci colleghiamo agli infortuni quindi accendiamo gli occhiali insieme alla maglia di Lukaku là appesa là dietro le notizie che arrivano dall'infermeria di Appiano Gentile non sono positive perché anche ieri hanno lavorato a parte tutti Sensi, Gagliardini e Asamoah lo stesso Bastoni dovrebbe aggregarsi al gruppo tra oggi e domani e solo quest'ultimo appare recuperabile per giocare a Torino gli altri andranno al massimo in panchina ma potrebbero anche non esserci proprio perché comunque non sono arrivate quelle buone notizie che si aspettava Conte ancora problemi ancora insomma qualche fastidio non si sentono al 100% forse solo Asamoah potrebbe andare in panchina lui alle prese con dei fastidi al ginocchio curato anche a Barcellona sta facendo delle infiltrazioni per superare tutto questo problema però per Sensi e Gagliardini sembra che prevalga la prudenza e allora vedremo in questi giorni ma c'è un po' meno ottimismo rispetto alle ultime giornate invece notizie positive per il fatto che comunque le nazionali hanno risparmiato Lautaro Martinez che ha giocato solo l'ultimo quarto d'ora dell'ultima partita quindi è già rientrato e si è già allenato ad Appiano poi risparmiati anche De Vrij che ha superato il suo acciacco ed era in panchina ieri sera e non ha giocato con l'Olanda e stessa cosa per Brozovic con la Croazia e anche Lukaku che non ha giocato contro il Cipro e a questo proposito Maglia dietro sempre lì in esposizione scaramantica facciamo i complimenti a Romelu che ha donato 5.000 biglietti ai bambini che erano lì sulle tribune per la partita contro il Cipro per festeggiare i suoi 50 gol con la nazionale belga anche in queste cose si vede come è un gigante buono quindi Conte riavrà tutti questi giocatori non stanchi come prima della sossa e potrà adesso fare qualche scelta anche se al centrocampo rimane l'emergenza potrebbe invece avere qualche soluzione più in difesa con anche D'Ambrosio che potrebbe giocare nei tre dietro con De Vrij e Skriniar per far riposare poi Godin e Bastoni che non è ancora al meglio con Candreva e Biraghi sugli esterni Barella Brozovic in mezzo al campo con Vessino anche lui che ha superato quel problema che ha avuto prima della sossa questo fastidio alla cicatrice di un muscolo già infortunato poi Lukaku e Lautaro Martienz là davanti c'è solo esposito di rientro dal doppio impegno con l'Under-19 due gol in due partite che può dare un po' di respiro a quei due lì in attesa del mercato e di Giroud se come sembra sarà lui il rinforzo per l'attacco giornali diamo una veloce rassegna stampa dei giornali in edicola con il Corriere dello Sport che nelle pagine dedicate all'Inter parla di Lautaro Martienz della situazione contratto nel mese di dicembre dovrebbe esserci appunto l'incontro con il suo agente per vedere di togliere del tutto o raddoppiare a 220 milioni la clausola da 111 che c'è ancora nel suo contratto che scade nel 2023 a Marotta non piacciono queste clausole anche perché in estate potrebbe perdere un giocatore così importante per solo 110 milioni quindi bisogna correre subito ai ripari Lautaro ora l'Inter pensa di blindarlo al nazionale argentino complice Messi nel mirino del Barcellona come ha messo anche Abidal nei giorni scorsi il suo contratto scade nel 2023 ma presenta una clausola di 111 milioni Marotta alza la guardia con Sanchez e Politano out il Toro e Lukaku non avranno respiro anche Gabigol le sue parole prima la Libertadores e poi il contratto il nuovo contratto un Gabigol che vuole conquistare contro il River Plate la Libertadores e poi decidere il suo futuro Vessino torne mediana il centrocampista ha recuperato Nodo D'Ambrose che può giocare sia esterno che nei tre di difesa pericolo giallo con Varela diffidato e quindi sia in campionato che in Champions rischia nelle prossime due partite ed è troppo importante poi anche un punto sul Torino Mazzarri perde Lianco e l'Axalt e quindi problemi per il tecnico l'ex tecnico Nerazzurro che sottosera affronterà l'Inter diamo un'occhiata anche a Tutto Sport prima pagina dedicata alla Juve Blindati rinnovi di contratti a Bonucci Scesni e Quadrado Toro che botte Inter che barella si gioca sugli infortuni del Toro che perde Lianco e l'Axalt mentre Conte si gode il centrocampista supera anche in azzurro Mazzarri perde l'Axalt e Lianco dopo Iago e Bonifazio l'allarme per la sfida di sabato c'è il caso Rincon che deve rientrare dal Giappone dopo il Tour de Force con il Venezuela Mbappé lo sceicco fa muro tentativo della Juventus su Tutto Sport per l'attaccante del Paris Saint Germain Di Bala a scalda Juve Inter brilla anche nell'Argentina un'intrataccia di Godin riaccende la sfida Scudetto polemiche sui social per questa entrata di Godin che si è subito scusato non ne avevo però viste di simili dopo l'unio di Sanchez l'intrataccia invece di Quadrado CR7 Juve si riparte il Milan alle spalle da Bergamo ricomincia la caccia al gol e c'è una supercoppa da conquistare il portoghese è tornata ad allenarsi alla continanza dopo gli impegni con la sua nazionale Pjanic sale la fiducia per sabato dovrebbe recuperare e poi Atalanta Rebus è l'attacco il Papo la certezza del Gasp bisogna vedere che cosa accadrà per Zapata che potrebbe recuperare dopo la lunga assenza Toro Allarme Lianco Laxalt Iago Capaolo Sparachio Inter e la classifica brividi problemi quindi per il Torino e poi Varela top player da terza scelta intoccabile pagina dedicata all'Inter a Varela in estate l'Inter aveva cercato Milinkovic Savic e Vidal prima di virare con decisione sul centrocampista Sardo un avvio difficile ma dopo il gol Coloslavio ha cambiato tutto ha preso fiducia e la sua stagione è svoltata Agumet io avanti con calma dopo il bronzo ai mondiali Under 17 aspetta di continuare a crescere poi si parla anche del futuro tra Musso e Radu è partita alla corsa al vice di Andanovic i dirigenti di Azzurri vogliono un altro portiere di alto livello da far crescere con lo sloveno è intoccabile ma si pensa già all'erede designato idea Pinamonti parte Politano prende quota lo scambio con il Genoa questa potrebbe essere una soluzione alternativa se non si dovesse trovare un accordo con Giroud fa rientrare Pinamonti e dare al Genoa in cambio Politano un affare molto più semplice da impostare ma anche qui bisogna vedere come andrà per Giroud è solo un'alternativa senza i Gagliardini non c'è speranza i due centrocampisti non rientrano con il Torino Bassani e D'Ambroso invece saranno disponibili questo quanto su Tutto Sport andiamo alla Gazzetta dello Sport dalla prima pagina c'è un bel caos nel calcio italiano problemi per il VAR problemi anche in Lega dove si è dimesso Miciche insomma problemi molto caos con l'attacco frontale di Ancelotti che ha chiesto a Rizzoli insomma ha fatto capire che non sta andando bene come viene usato interpretato il VAR come ha già detto anche Conte in conferenza stampa poi si parla di San Siro però sulla Gazzetta il risultato del sondaggio 60% dei milanesi non vuole abbatterlo San Siro amore mio altrettanti chiedono uno stadio nuovo il dibattito sull'impianto rischia lo stallo la Gazzetta lo rilancia dando la parola alla gente con una grande inchiesta a puntate intanto mi chiedete anche il mio parere io ristrutturerei e riammodernerei San Siro sicuramente non lo abbatterei perché è un monumento del calcio la scala del calcio e da sempre vuol dire calcio non solo a Milano ma in tutta Europa troverai una soluzione alternativa a quella di abbatterlo poi Lega di Anelcaus si dimette Miciche voci inaccettabili adesso è sfida Gravina De Siervo inchiesta federale sulla sua elezione una VAR per tutti il designatore promette più trasparenza sentiremo i dialoghi sulle azioni sospette Ancelotti Arizzoli decidano gli arbitri e non il VAR che sta condizionando troppe partite la parola alla gente l'Italia sceglie meazza intoccabile ma il nuovo stadio si deve realizzare il lungo duello Cattedrale Anelli e Vincoli l'Inter e Milan ora riflettono a un anno dall'annuncio del club di voler costruire un nuovo stadio braccio di ferro col comune sul futuro del Meazza sulle volumetrie Miciche si è dimesso il banchiere saluta le voci su di me sono inaccettabili Cairo sorpreso spero che ci ripensi perché ha lavorato bene insomma tanta confusione rinnovo poi per Bonucci Ronaldo Sarri faccia faccia e si riparte in casa Juventus e poi Giroud come dicevamo in apertura avanti tutta l'Inter vuole accelerare si lavora sull'ingaggio il francese l'identikit ideale per gennaio il club valuta un accordo di 18 mesi la punta chiede un anno in più e poi dai citi aiuti a Conte riposano tre big Lukaku e De Vrij in panchina come Brozovic in nazionale buone notizie in vista di Torino fuori Asamoah Sensi e Gagliardini contro i Granata ma su questo appunto verificheremo in questi giorni vedremo come andranno i loro reinserimenti se riusciranno almeno a recuperare per la panchina per questo mi raccomando Studio Sport Ore 13 Italia 1 e poi sempre sintonizzati con l'Hub di Sport Medias e voi mi raccomando non cambiate canale e iscrivetevi se non l'avete ancora fatto mi raccomando mi raccomando mi raccomando i i i Grazie.